L'Associazione Marciana Ore di cui fu parte è formata da un gruppo di volontari che si organizzano per valorizzare tutto quello che può essere di storico del passato del Comune di Marciana. Noi abbiamo la convinzione che vi siano molte cose da scoprire e da pubblicizzare come reperti del passato e quindi ci diamo da fare per operare in tal senso. Per realizzare tutto questo abbiamo collaborato da circa 6-7 anni col Comune di Marciana gestendo tre musei essenziali, e cioè il circuito formato da Fortezza Pisana, Museo archeologico e Museo numismatico della Zecca. Il Museo numismatico della Zecca è stato voluto da noi soprattutto a seguito anche di un documento che abbiamo recuperato del passato. La stessa Marciana Ore si interessa anche di promuovere, diciamo, oltre al controllo del circuito museale, anche di promuovere Marciana Cultura, che si tratta di una serie di incontri che vengono effettuati la sera per turisti e residenti che parlano appunto della storia e della scienza che si possono avere nell'analisi del territorio marcianese. Tutto questo per valorizzare sempre il discorso della ricchezza che noi troviamo in questo paese. La fortezza pisana, la cosiddetta fortezza pisana, è nata molto probabilmente come punto di osservazione e di protezione contro invasioni esterne. È diventata fortezza nel senso che, oltre a essere punto di osservazione, sono state costruite delle mura nel periodo indicativo del 1100-1200, quindi sotto la Repubblica Marinara Pisana, in modo da garantire al territorio marcianese una forma di protezione contro le invasioni o dette esterne. Attualmente questo monumento è stato ristrutturato e adibito a zona di visitazione, perché all'interno si trovano delle armi, si trovano degli utensili, si trovano punti di ricerca, per esempio la falconeria, cioè settori che riguardavano proprio il periodo del Medioevo, cioè 1200-1100-1200. e viene utilizzato come punto di ritrovo, di incontro, per fare anche delle attività all'interno, tipo lancio dell'ascia, tipo tiro con l'arco, per far rivivere alle persone che vengono a visitarlo le situazioni particolari con cui si viveva in quel periodo. E' chiaro la caratterizzazione delle armi è perché, essendo un punto di difesa, ha un'attinenza con questo tipo di materiali che noi esponiamo alla visione delle persone. Le persone poi possono salire nella zona cosiddetta della passeggiata in alto e rendersi conto della visibilità e del controllo di tutta la parte marina stessa verso nord, mentre la parte sud è un punto estremamente strategico. La parte sud è protetta dalla vallata del Monte Capanne, e quindi nessuno viene dalla parte sud, ci immaginiamo, no? Mentre la parte scoperta è la parte nord, che ha il punto di vista della passeggiata, che fa vedere tutto l'arco di mare fino a Piombino. Il Museo Archeologico di Marciana è composto da quattro stanzi. All'interno noi troviamo la storia di questo paese, dettata attraverso i reperti che sono stati recuperati, storia che va dall'uomo primitivo, quindi dall'età della pietra, pietra scheggiata e pietra levigata, successivamente nel periodo del bronzo e successivamente ancora nel periodo degli etruschi fino al periodo romano del primo secolo dopo Cristo. in queste quattro stanze sono raccolte appunto tutte le vestigia di questa storia di paese e nella prima stanza per esempio noi troviamo oltre alla pietra scheggiata già un inizio di attività dell'età del bronzo. Non c'è nessun oggetto in bronzo nella prima teca. Perché? Perché ancora probabilmente non si costruivano. E allora noi abbiamo trovato e abbiamo a disposizione però degli oggetti in ceramica, il che vuol dire che gli uomini avevano già costruito i primi forni, cioè cominciavano l'età della lavorazione attraverso il fuoco. Sulla parte ancora andando avanti troviamo nell'VIII secolo prima di Cristo l'attività del bronzo, cioè un oggetto veramente in bronzo e che sono quattro asce della valle Nieccarina, trovate nella valle Nieccarina di Chiesi e attraverso le quali si può capire che già si stava lavorando oggetti in bronzo e soprattutto venivano lavorati con degli stampi perché i quattro oggetti di asce sono uguali. Andando avanti sempre nella prima stanza noi troviamo i primi reperti pre-etruschi, probabilmente recuperati da qualche tomba in cui ci sono oggetti lasciati per i defunti. Nella stanza invece, nella seconda stanza, la stanza principale è la più importante perché si tratta di tutti i reperti recuperati a Monte Castello. Monte Castello si tratta di un luogo sopra a Procchio ed è un fortilizio etrusco utilizzato appunto dagli etruschi distrutto da un incendio nel 300-350 prima di Cristo e utilizzato appunto dagli etruschi perché gli etruschi cominciavano a lavorare il ferro erano riusciti a ottenere dei forni che potevano portare il calore a 1300 gradi la fusione, calore necessario per la fusione del ferro. Tutto questo però occorreva creare una struttura di controllo. il fortilizio era una delle strutture di controllo. In questo fortilizio abbiamo trovato appunto siccome ci sono stati gli scavi del 1977 abbiamo trovato una serie di oggetti ceramiche eccetera che ci hanno parlato di questa realtà. Probabilmente il fortilizio è stato distrutto dai romani che sono subentrati poi agli etruschi. Nella terza stanza noi troviamo i reperti di colonne romane che venivano costruite nella zona di Chiesi, nella zona di Fetovaia e così via, nella parte a monte, Cavoli soprattutto, nella parte a monte noi troviamo delle colonne scolpite nel granito, colonne che si sono spezzate e che quindi sono rimaste depositate lì, non sono state portate via. C'è tutta una storia anche poi per il trasporto di queste colonne in continente che veniva fatto sulle navi. Nell'ultima stanza e cioè nella parte finale noi troviamo tutti i raritti del periodo romano. Il pubblico può trovare in questa sala le immagini delle due navi principali di cui ho parlato e cioè la nave di Procchio e la nave che si trova affondata nella zona di Marciana Marina. Nelle due navi sono state asportate anfore, sono state asportate oggetti che facevano parte della loro disponibilità nel momento in cui i sub sono andati a individuare i raritti. da tutto questo il pubblico si può rendere conto di come avvenivano i trasporti, quali erano gli oggetti che venivano trasportati e quindi tutto entrare in un sistema particolare di storia subacquea, va bene? di quel periodo, si sta parlando del primo secolo d.C. Il Museo Nomismatico della Zecca è un museo che è nato dalla volontà nostra e dell'amministrazione di valorizzare una memoria storica che è stata riportata in molti libri dove si dice che a Marciana veniva battuta moneta e non era molto chiaro all'inizio dove poteva essere, in grosso modo, però la memoria storica ci riportava di tante persone, soprattutto tra i più anziani, ci riportava a una zona che si trova in via del giardino sotto la casa Appiani e la memoria storica della popolazione diceva che in quel luogo si batteva moneta. Oltre a questo noi abbiamo trovato un documento di un certo Zanetti del 1700 presso l'archivio di Piombino nel quale si definiscono si definisce la Zecca di Piombino degli Appiani si parla di Giacomo VII Appiani e dei Ludovisi successivamente i quali battevano una serie di monete e tutto documentato. Assieme a questo viene definito in questo testo che è una ricerca fatta da questo signore che era un prete appassionato di numismatica anche delle sedi dove si battevano moneta non come Zecca, cioè dove si creavano coni o si acquisivano lastre per creare monete ma soprattutto dove solamente si batteva moneta erano sedi distaccate le sedi distaccate venivano definite officina della Zecca Lo Zanetti è stato incaricato dai principi di Piombino Ludovisi di fare questa ricerca e ha ricostruito tutta la storia della Zecca La Zecca è stata costruita, voluta dagli Appiani soprattutto da Giacomo VII Appiani grazie alla concessione della Camera Imperiali Giacomo VII Appiani è stato riconosciuto principe di Piombino che è di un principato che comprendeva non solo Piombino e la Val di Cornea ma anche le isole di Isola d'Elba Monte Cristo, Pianosa eccetera e tutte le attività che venivano effettuate dal 1399 in poi perché la data in cui si è costituito per la prima volta il principato di Piombino dal 1399 in poi è continuato con gli Appiani seguendo la dinastia degli Appiani e sviluppando l'attività e la gestione del territorio di Piombino anche sull'isola d'Elba ecco perché c'è questo legame fra il Piombino Zecca e l'isola d'Elba Officina della Zecca per quanto riguarda Marciana il signore qui questo Zanetti rimarca che a Marciana presso la casa Bernotti e la casa Bernotti e la casa degli Appiani veniva battuta moneta quindi è una testimonianza della fine del 1700 su cui noi abbiamo creato poi questo tipo di museo abbiamo creato il museo perché dovrebbe diventare il museo numismatico dell'Elba perché è l'unico fatto all'Elba la sede della Zecca cosiddetta Officina della Zecca ha un enorme valore perché guarda caso la Zecca di Piombino che era la casa principale non riescono più a trovare a Piombino dove era la sede l'unica sede diciamo testimoniata appunto dallo Zanetti rimane quella di Marciana per cui per noi è una grossa soddisfazione avere a disposizione questa risorsa e far vedere l'ipogeo che è una zona scavata nella roccia che veniva molto probabilmente utilizzato come cavò e l'officina vera e propria non era all'interno del lipogeo ma era lateralmente cioè un passaggio chiuso che è stato chiuso nel passato dove due fabbri avevano l'officina cioè praticamente è adiacente al lipogeo grazie 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 a tutti.